La posizione di gran lunga prevalente delle iscrizioni è interna alla tomba. Sono da considerare in questa categoria non solo quei testi iscritti direttamente sulla struttura del sepolcro stesso, cioè sulle pareti interne della tomba, graffiti o dipinti che siano, ma anche quelli, molto più numerosi, apposti sui contenitori funerari, sarcofagi, urne, olle e altri cinerari, come il caso delle urne di età ellenistica degli steperni. Anche se è possibile pensare che le urne, prima della deposizione all'interno della tomba, fossero temporaneamente visibili ai partecipanti alle esequie, non c'è dubbio che i fruitori principali di questi contenitori iscritti dovevano essere coloro che avevano periodicamente accesso alla tomba, ossia gli eredi dei defunti, che potevano riconoscere in questo modo le sepolture dei loro antenati. In età ellenistica l'onomastica subisce importanti cambiamenti. Si ha, infatti, una drastica riduzione del numero dei prenomi, che così perdono la loro forza identificativa individuale. Questo porta a scriverli spesso in forma abbreviata e all'esigenza di identificare il defunto con altri elementi propri dell'onomastica. Il formulario più semplice, come in età anteriore, è quello che prevede prenome e gentilizio. L'urna di Avle Stepney è chiara testimonianza di questo costume. Ma in questo periodo troviamo più frequentemente formule più complesse, dove prenome e gentilizio sono affiancati da un ulteriore nome familiare, il cognomen, oppure dal nome del padre, cioè il patronimico, o quello della madre, cioè il metronimico, come il caso di Lart Stepney, figlio della Houtney. Alcune volte, patronimico e metronimico potevano essere seguiti dalle parole figlio, clan o figlia, sech.